La nostra regione continua ad essere interessata da un campo di alta pressione che garantisce condizioni di stabilità con temperature che si mantengono lievemente al di sopra della media stagionale. Alta pressione che nel corso di questo fine settimana subirà un parziale cedimento in quota ma riuscirà comunque ad opporsi all'attacco di una perturbazione atlantica che dalla Francia tenterà di inserirsi sul bacino del Mediterraneo, progetto che non andrà in porto e dunque la nostra penisola sarà interessata marginalmente dal fronte perturbato con scarsi affetti sulla nostra regione. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo fine settimana. Sabato 19 dicembre, cielo tra poco nuvoloso e nuvoloso con maggiore e densamenti lungo la dorsale appenninica ma con basso rischio di precipitazioni. Temperature senza particolari variazioni, venti deboli a tratti moderati da sud-est e mare poco mosso sotto costa localmente mosso a largo. Domenica 20 dicembre, cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di qualche piovasco sparso tra l'interno casertano ed il napoletano, più soleggiato lungo tutta la costa. Temperature stazionarie, venti deboli orientali e mare poco mosso, localmente mosso a largo. A partire da lunedì l'alta pressione oceanica tenderà ad espandersi verso Levante, determinando una maggiore condizione di stabilità. Ma ritorneranno le foschie e i banchi di nebbia durante la notte al primo mattino, nelle vallate e pianure interne. Mite di giorno almeno fino a mercoledì 23. Possiamo abbozzare una tendenza per la giornata del Santo Natale con l'ausilio dell'ultima emissione dei più autorevoli centri di calcolo per le previsioni a medio termine. In particolare vi mostro la mappa prevista per giovedì 24 dicembre, quindi Vigilia di Natale, elaborata dal centro europeo di Reading, dove si evince un affondo piuttosto incisivo di una depressione di origine artica, la cui traiettoria però appare ancora incerta. Ad ogni modo l'alta pressione verrebbe demolita in area mediterranea con l'ingresso di un fronte perturbato che andrebbe a determinare condizioni di instabilità con piogge e nevicate sui rilievi. In definitiva sembri che proprio nella giornata di Natale potrebbe concretizzarsi una svolta dalle caratteristiche invernali. Dunque, a maggior ragione, invito i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it. Termino qui un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.